3 regole sacre per le ragazze che tutti noi dovremmo rispettare numero 1 se vede una ragazza o comunque qualsiasi altra persona al mondo con la zip dei pantaloni abbassata bisogna dirglielo è una cosa imbarazzante da dire però almeno cercare di farglielo capire e questo vale anche quando ha le sue cose numero 2 se vi piace qualcosa di una ragazza diteglielo ricevere dei bei complimenti da una ragazza è molto meglio che riceverli da un ragazzo fateli questi complimenti mi raccomando potrebbero anche migliorare la giornata di questa ragazza numero 3 se si interrompe un'amicizia i segreti vanno mantenuti evitiamo evitiamo